Attenzione, più dell'80% di voi guarda i miei video ma non è iscritto, quindi fate un gesto, iscrivetevi, così cresce il canale e in futuro potranno esserci ancora più video, ancora più contenuti, così da divertirvi di più. Buona visione! Sfida nottuna tra Cascio e Atletico Castiglione, ecco le due squadre che entra in campo, il Cascio con Biagioni, Turri, Santoni, Borgi, Regoli, Lutti, Tognarelli, Catarini, Bacci, Niccoli e Cecchi, in banchina da Amitriti, Pecentini, Bertogli, Giannasi, Scaltriti, Chielloni, da Doveri, Turri, Mister Bonini per il Castiglione, Micchi, Angelini, Pucci, Canelli, Tagliasacchi, Magagnini, Dini, Cristea, Ferrari, Bigi, Gheri, in panchina Bertini, Barfucci, Giuntini, Cecchi, Zarrella, Biagioni, Martinelli, Andreucci, per mister Stefano Pancetti, l'abito è il signor Federico Guidotti della sezione di Lucca, tra poco l'inizio del match. Inizia ora, ancora Bigi, prova a girarsi, il tiro è alto! Va con il mancino, fuori! Si appoggia da Angelini, Angelini in aria, crossa dentro, attenzione! Crosa al vattaggio di Turri! Va Niccoli con il mancino alto, attenzione! Proprio di testa di Boggi ed è dal fondo! Marca da due, Bigi, prova il cross, attenzione! Tagliasacchi, palla dentro, respinge! Valuti con il destro, palla dentro, traversa! Attenzione Santori! Dentro, attenzione, Angelini contro Regoli, ancora Angelini, si affida al compagno, cross dentro, attenzione! Biagioni di pugno, allora al volo Ferrari, la palla rimane lì, Gary non riesce! Allora, devi! Attenzione, Ferrari, palla dentro, spiomente, Bigi, la schiaccia, traversa! Traversa di Bigi! Fa strozzare l'urla della gioia del gol al Castiglione, Scaltritti in testa, attenzione, cecchi, ottimo tocco per Scaltritti! Fuori! Bravo, Angelini, bello il cross, è per Bigi che l'arpiona, conto Turri, gran cosa, attenzione, Giuntini, non tira la volcata, ancora! Fuori! Caccio d'angolo! Un'aria ingremita di gente, allora Scaltritti con il destro alto, schiaccia di testa e fuori! Ma ora Canelli, palla dentro, libera, attenzione, Barfucci, al volo, fuori! Attenzione, Bigi, prova a proteggere la puntata interessante, attenzione, calcio d'angolo, ma Turri ha fatto una cosa che divide il genio e l'incoscienza! Va Bigi, con il destro dentro, attenzione, la palla passa tutta l'aria, va da Chedo Martinelli, potrei sbagliarmi, Barfucci, cross deviata, attenzione, sponda spizzicata! No! C'è un gran casino, ma Biagioni la parata! Ancora 30 secondi, Castiglione, no! Si concorde qui, 0-0, Castiglione va, primo in classifica, a 11 punti, da solo, e il Cascio muove la classifica! Un saluto da Gianmarco Mettè, alla prossima!